Gli ignoranti della Domenica. Ciao Giulio, il mitico Giulio, che l'altro anno si è qualificato per la legata storica, non grande, si stanno lì, si stanno vecchi. Campo del Gapte. Grazie. Grazie. Fammi vedere chi. no, se l'ha già sciolto tutto, se l'ha già sciolto tutto, vai che bella sta corte, chi c'è che vieni qua, chi che abita e basta, guarda come si chiama questa corte, la corte del Cristo Re, nostro Signore, grazie Gesù, sei sempre presente nei nostri cuori, nei nostri pensieri, per tutti i nostri cari e per chi ha bisogno, grazie Gesù, ecco qua il garage, questo è su me, qui c'è qui, eccola qui